A partire da oggi e fino a sabato prossimo 2 novembre, il cimitero di Sciacca sarà aperto in modo continuato dalle ore 7 fino alle ore 17. Il nuovo orario, in vigore solo per questi quattro giorni, è stato disposto dall'amministrazione comunale, in occasione della ormai imminente giornata di commemorazione dei defunti, che da calendario è quella del 2 novembre, ma anche i giorni precedenti sono sempre caratterizzati da un notevole afflusso al cimitero da parte della cittadinanza. È la settimana in cui si rende omaggio ai propri cari che non ci sono più, ed è un momento assai sentito dalla comunità saccense, ma anche in tanti altri comuni. Cimitero di Sciacca, dove nel frattempo prosegue la scerbatura e la pulizia, con ulteriori interventi in queste ore rispetto a quelle ordinari, che proseguiranno anche domani. E tutto ciò, dichiara il nostro telegiornale, l'assessore Fabio Leonte, al fine di garantire condizioni ottimali e il massimo decoro in queste giornate di grande affluenza. Al fine di favorire ordine e pulizia, inoltre, è sempre l'assessore Leonte ad annunciare che quest'anno sono stati collocati sei bagni chimici all'interno dell'area cimiteriale, mentre altri due da domani saranno sistemati nell'area esterna. Sempre al fine di garantire una maggiore pulizia, è in vigore ormai da un paio d'anni l'ordinanza che ha istituito il divieto di introduzione all'interno del cimitero di confezioni di plastica non biodegradabili per i fiori freschi e che mira anche ad un corretto smaltimento dei fiori finti e dei lumini votivi. Un provvedimento che ha istituito anche dei divieti sia per i commercianti sia per i cittadini.